ed eccoci siamo di nuovo insieme una seconda parte di angoli davvero scoppiettante ma brevemente il nostro indirizzo di posta angoli chiocciola espansione tv punto it per restare sempre in contatto con la nostra redazione e ci sono loro due ospiti pazzesche davvero Alessandra Di Pietro ciao Alessandra sorriso meraviglioso che bello averti qui tu sei una giornalista una scrittrice mamma mia mamma mia eccolo qua tra poco ne parliamo e poi c'è lei la nostra prezzemolina Anna Veronelli guarda guarda che sguardo Anna grazie per essere qui anche stasera perché davvero l'ho detto tante volte tu ci azzecchi in tantissime cose hai tempo fa conosciuto Alessandra ha intrecciato un bel rapporto ci sono tante cose che ci racconterete e sei qui accanto a lei perché insomma la famiglia per te è una cosa importante è vero sì sì e ho letto questo libro mi è piaciuto tantissimo l'abbiamo presentato e oggi lo facciamo scoprire insieme certo e ne parliamo nel dettaglio stavamo proprio parlando di mamma mia eccolo qua allora Alessandra come mai hai deciso di raccontare queste avventure straordinarie che accadono all'interno delle famiglie con una chiave di lettura molto particolare? Allora il libro l'ho scritto con Paola Maraone che è una mia amica e che è una mia collega giornalista e l'idea nasce perché una sera abbiamo passato ore e ore a curiosare l'una nella vita dell'altra raccontandoci le cose che erano accadute con i nostri figli Paola ha tre figli io ne ho due e quindi gli errori i colpi di fortuna le sviste clamorose le cose belle che c'erano accadute ma anche le cose che erano riuscite perché ci eravamo impegnate tantissimo allora a quel punto ci siamo dette ma se noi due siamo passati siamo stati così tanto bene insieme a raccontarci queste cose magari possono interessare anche alle altre e agli altri e quindi abbiamo pensato di scrivere un libro e siccome siamo ragazze che sognano alla grande abbiamo pensato di chiamarlo mamma mia il metodo italiano per crescere bambini felici tanta roba questo tanta roba mi piace davvero tanto perché insomma c'è un metodo c'è un metodo italiano Anna tu ne sei insomma portavoce c'è un metodo italiano se posso dirlo che è di grandissima ironia di leggerezza e di profondità allo stesso tempo forse quello che ci racconta un po noi italiani che siamo profondissimi ma sappiamo sorridere ridere anche di noi stessi e c'è anche un po di cucina dentro questo libro perché poi se lo leggerete scoprirete che c'è un un ace che è un succo ma che è anche un un acronimo di tre parole che sono chiave per educare crescere i figli e c'è anche la mamma polpetta ma di questo vi parla alessandra ed è proprio questa la domanda che avrei voluto introdurre a te perché ci sono un po di tipologie di mamme questa mamma polpetta invece come è come fatta le tipologie di mamme di solito riguardano gli animali c'è la mamma coccodrillo c'è la mamma tigre quella cinese quella che conosciamo di più però in realtà la mamma italiana è un po una mamma che è stata sempre chioccia come sua identificazione degli animali però noi volevamo andare oltre lo stereotipo degli animali e siccome questo libro nasce appunto tra due persone che vivono una roma e una a milano quindi lo abbiamo scritto insieme prevalentemente via via whatsapp via email e spesso le lunghe telefonate in cui ci scambiavamo le nostre opinioni erano in cucina mentre io cucinavo con il cellulare in tasca cucinavo queste interminabili cene che faccio per i miei figli io amo cucinare allora un giorno ho detto a paola vedi io mi sento un po come se mi sento una mamma polpetta perché in fondo crescere i figli è un po come fare le polpette ingredienti di buonissima qualità e poi devi mischiare in ogni casa c'è la ricetta delle polpette che non è uguale a quella di nessun altro poi in italia cambia ci sono delle caratteristiche particolari ogni casa ha la sua e ovviamente è la migliore ed è insuperabile un po come le mamme allora tu metti un po metti un po di rimproveri tantissimo amore poi ci aggiungi quella una spruzzata di limiti poi ci mette ogni tanto un tocco di follia e alla fine viene fuori una polpetta che non sarà perfetta ma è la tua polpetta sei tu unica e ripetibile ma essere mamma a milano a Roma e a Como è diverso beh io penso di sì anche perché io vengo per esempio dalla Sicilia da un piccolo paese della Sicilia che si chiama Lentini e anche essere mamma a Lentini è un'altra cosa ancora e forse essere mamma è anche differente da casa in casa per fortuna vorrei dire perché non c'è un modello a cui ci dobbiamo uniformare ognuno di noi è speciale in ogni cosa che fa nella vita fare la mamma fare la meravigliosa conduttrice fare il nostro meraviglioso cameraman ognuno uomini e donne per fortuna siamo differenti siamo differenti anche in questo ecco noi quello che abbiamo voluto mettere qui dentro sono 88 storie di vita vera sono proprio delle esperienze esperienze che noi abbiamo trasformato in insegnamento e questo insegnamento serve perché chiunque lo legga possa sentirsi parte di questo libro ma gli uomini ci azzeccano qualcosa in questo libro tantissimo i figli li facciamo con un papà e per quanto possibile mi auguro che nella vita di ciascun bambino di ciascuna bambina di ciascuno di noi ci sia una quota di mamma e ci sia una grande quota anche di papà e qui dentro c'è anche una storia a cui tengo moltissimo è la storia della mia separazione io mi sono separata dal padre di miei figli ci siamo separati dopo sette anni e insieme abbiamo raccontato la nostra separazione perché con molta fatica e con molto impegno siamo riusciti a fare una separazione che un modello positivo ovvero una storia di genitori che va oltre la storia della coppia ecco questo importante perché la separazione sempre un momento drammatico però è necessario anche conoscere delle modalità positive per poter dire se l'hanno fatto loro ci posso provare anch'io quindi non bisogna presentare un conto all'altro quando ci si separa per il bene della della famiglia dei figli no io rispetto ogni esperienza però dico che quando i genitori quando una coppia si separa si separa la coppia se possibile non si devono separare i genitori e anche paola ha una separazione alle spalle una nuova famiglia ecco noi raccontiamo una contemporaneità e la raccontiamo con un modello che speriamo possa essere di ispirazione anna che cosa hai sentito più tuo in questo libro ti direi tutto tranne il rapporto tra i fratelli perché come come sai io ho un bimbo solo che è primo genito prediletto figlio unico adorato e questa cosa mi manca un po' perché per quanto siano conflittuali i rapporti tra i fratelli sono preziosissimi mi sono commossa quando si racconta della mamma che arriva il giorno in cui decide di smettere di allattare che più un problema della mamma che non del bambino mi sono molto emozionata nelle storie più intime mi sono divertita un sacco perché insegna anche lo slime insegnano i bambini perché la bimba alle prese con la realizzazione di questo slime da lì impara una lezione fondamentale che bisogna avere pazienza che bisogna andare per tentativi che non sempre lo slime viene bene a volte si scioglie tutto è cresciuta giocando e devo dire che mi è piaciuto molto come ciascuno di questi 88 capitoli gli episodi di vita quotidiana diventino un po paradigma di per ragionare per riflettere per confrontarsi per dire non ci avevo mai pensato e poi una cosa molto bella sono i contributi di una serie di esperti che sono amici di paola amici di alessandro che insomma con efficacia e in poche parole riescono a dare dei consigli molto utili io in particolare mi sono interessata sia al tema della genitorialità positiva e anche del parent training insomma si può allenare a essere dei genitori efficaci ci sono delle tecniche anche per gestire lo stress mi ha fatto morire in riferimento a quella mamma che quando arriva la sera non ne può più è stanca morte ai figli che la esasperano recita un mantra io non ne posso più sono stanca adesso voglio andare a farmi un bagno non vi sopporto più e i bambini capiscono che qualcosa di magico accade Alessandra quanta magia ci vuole per essere genitori di successo diciamo così guarda ci vuole la mia la mia saggia nonna diceva ci vuole fortuna anche a friggere un uovo ve la potrei anche dire in siciliano ma vi esonero da questo in realtà si ci vuole un po di magia ci vuole un po di follia e ci vuole anche un po di noia perché fare i genitori è un lavoro anche estremamente noioso tutti i giorni devi comunque attivare tantissime operazioni di cura tantissime operazioni di confronto talvolta i figli ti ripetono delle cose che tu non hai voglia di sentire talvolta sei talmente stanca che vorresti veramente solo un bagno caldo ecco io credo che quella dose di noia che sta dentro la relazione con i figli è fondamentale perché aiuta loro e aiuta anche noi ad uscire dall'idea performativa essere genitori così come anche essere figli non è una performance non è una prova di teatro nessuno ti sta dando un voto e invece un modo di stare insieme di vivere dentro quella relazione di scambiarsi di conoscersi ecco ed è proprio in questo modo che riusciamo a creare un guscio caldo dentro quel guscio può succedere qualcosa anche che non ci piace ma il guscio ce lo contiene ecco ma secondo te secondo la tua esperienza guardiamo anche l'altro lato della medaglia questi bambini questi piccini che vedono dei genitori sempre di corsa la mamma impegnata il papà che fa altre cose magari i genitori separati insomma a loro volta con che occhi guardano questa questi genitori insomma che si occupano di loro come meglio possono ovviamente guarda ti riporto le parole di uno degli esperti che stanno in questo libro ci sono pochi esperti ma sono quelli che in vent'anni di attività di giornalismo in cui siamo occupati tanto di famiglia e di educazione abbiamo conosciuto si chiama Federico Tonioni Federico Tonioni mi ha insegnato una cosa fondamentale i figli ti guardano quando tu non te ne accorgi ed è una straordinaria risorsa perché significa che l'educazione dei figli passa per la tua testimonianza passa per come tu sei tutti i giorni non passa per i sermoni che stai impartendo ecco quello ci dovrebbe aiutare a correre meno e a ricordarci che loro ci sono anche quando non ce ne accorgiamo battuta conclusiva perché siamo davvero quasi ai saluti in questa settimana che ci porta di corsa all'8 marzo che sarà ovviamente la festa della donna cosa vuoi dire a tutte le donne che ti ascoltano mamme ma anche non mamme perché poi qualcuno sempre si cresce assolutamente voglio dire di ricordarci sempre di avere un'ora tutta per sé dopo la stanza tutta per sé di Virginia Wolf oggi il nostro obiettivo è un'ora tutta per te se possibile ogni giorno al massimo ogni due è fondamentale se non siamo noi a definire i nostri confini nessuno li potrà mai rispettare bene io ringrazio Alessandra Di Pietro con il suo meraviglioso mamma mia per essere stata qui con noi e la nostra adorabile Anna Veronelli grazie a te grazie prestissimo grazie anche a voi come ogni sera per essere stati in mia compagnia e come ogni sera tra pochissimo la linea all'informazione grazie a te